I vigili del fuoco di Pesero cercano una nuova caserma più funzionale sia strutturalmente che logisticamente da quella attuale sulla statale adriatica. Le due ipotesi però prospettate dal Consiglio Comunale in tempi recenti non sembrano rispondere all'idoneità di standard richiesti dal Ministero. E quanto emerso ieri dalla visita del sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco, accompagnato nell'occasione dai vertici del comando dei vigili del fuoco, dai candidati a sindaco di centrodestra per Pesero e Fano Marco Lanzi e Luca Serfilippi e dal consigliere regionale Nicola Baiocchi. I siti in zona interquartiera in zona Santa Veneranda non sono risultati abbastanza estesi ma resta l'impegno a trovare una soluzione. Sono state fatte delle analisi, i due terreni che sono stati proposti dal Comune ancora non sono stati ritenuti idoni per problemi tecnici, adesso non sta a me sicuramente a spiegare quali sono le motivazioni. Certo c'è una volontà da parte del sottosegretario Emanuele Prisco e quindi del Ministero e del Governo tutto di cercare di trovare una soluzione per dare una dignità ad una caserma che sicuramente ha bisogno di essere ammodernata e sicuramente cambiata. Quindi lavoreremo sicuramente insieme per arrivare a questo obiettivo, poi si è parlato anche della problematica della caserma di Fano e di Macerata Feltria dove le situazioni sono state sostanzialmente sbloccate a Macerata Feltria e andremo verso una soluzione si pensa dentro l'anno e invece per la questione di Fano ci sono delle problematiche maggiori, il Governo ha stanziato ulteriori, il Ministero ha stanziato ulteriori soldi, adesso la stazione appaltante è in capo al Comune di Fano e speriamo, ci auguriamo che in tempi brevissimi veramente si risolva questo problema ormai non usano da tanto tempo.